Ciao! Allora, stiamo andando a vedere il passaggio del Giro d'Italia, che oggi passa a Mantova, non so se era la prima volta, sicuramente no, però sono anni che non veniva di qua. E poi abbiamo qualcuno da presentarvi. Abbiamo un ospite, perché gli piacciono tanto le pizzi e gli piace correre dietro. Volevo vedere la sua reazione. Cosa fa? Sono due treni all'anno giusto quando parliamo. Certo, ovviamente. Tieni che glielo facciamo vedere. Amore, chi è il cane più bello del mondo? Amore. Loris? Guarda, l'ha tenuta brava! Lei è la mia cagnolona! Non la stai riprendendo, amore. È stata molto brava. È la mia cagnolona. È stata molto, molto, molto brava. Adesso vediamo se quando ci sono le bici sarà altrettanto brava. Allora cosa pensi del Giro? Deve ancora passare. Eh, cosa pensi? Sei contenta di essere... Eh sì, sono emozionata, voglio vedere i primi. Ah, i primi e basta? No, cioè voglio vedere quanto ti sta... Insomma, non l'ho mai visto, dal vivo voglio vederlo. Mi è capitato di vederlo in tv, però dal vivo non l'ho mai visto, quindi... Ti è capitato di vederlo in tv quanti secoli fa? E soprattutto dormivi quando c'era... Sicuramente dopo un certo punto dormivo, però dormo sempre quando guardo la tv, quindi... Non fa senso. Però sì, no, mi ricordo che li avevo visti che erano tipo... Stavano facendo una discesa. Non mi ricordo. Cosa fai? Che è il cane più valore del mondo, eh? Amore, vieni qua, dammi un bacino. Stando che arrivino... Quelli del Giro d'Italia. Del Giro d'Italia. E speriamo... Siamo qui con il cane. E speriamo che lei faccia la brava e non corra dietro tutte le biciclette, vero, amore? Sotto un po' spunteranno da qui. Per adesso sono passati solo i camioncini della promozione. Che volevano vendere le magliette, i cappellini. A solo 10 euro il cappellino. Vediamo. Guarda no. ciao da riprendere anche questo dai mettici una musicina che parla si è fermato ma che vocina gli ha messo sono bellissimi grazie a tutti 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 grazie a tutti